Gesù ci guarisce. Prima libera dal maligno, poi guarisce dalla malattia, poi continua tutti i suoi prodigi perché la gente si domanda, ma chi è? Chi è? Non è una domanda curiosa, deve essere una domanda di vita per me, per la mia conversione. Allora, per me Gesù è colui che, onnipotente, onnipotente, mi guarisce, ma non per il mio comodo, per servire. Guardiamo questo piccolo episodio del Vangelo di oggi, meraviglioso. Per comprenderlo dovemmo far caso a dove veniva letto. Quando l'Evangelista Marco l'ha scritto, probabilmente veniva letto nella casa di Pietro, a Roma, dove Marco ha scritto il suo Vangelo, dove Pietro abitava e accoglieva i primi cristiani. Lasciata la sinagoga, nella casa di Pietro, Gesù entra e, notiamo, gli parlano della suocera malata. C'è una comunità che prega, che intercede presso Gesù perché c'è chi sta male. Gesù si accosta, è il mistero del Natale, per noi uomini, per la nostra salvezza, la discesa del cielo. Si accosta e, toccandola, l'aiuta a rialzarsi. È il verbo della risurrezione, di Pasqua. Rimette in piedi, fa stare in piedi lui, accostandosi a noi. Ci rende simili a lui. Ma perché? È meraviglioso. La suocera di Pietro, guarita, si alzò e si mise a servirle. Ogni volta che il Signore mi perdona, ogni volta che mi guarisce dal male, ogni volta che mi libera dal maligno, ogni volta che mi aiuta a essere me stessa, a sapere stare bene in piedi con lui e con gli altri, io devo essere pronto a servire. La mia vita, allora, prende tutto il suo significato, tutta la sua pienezza. Chi è Gesù? Gesù è colui che mi sana, mi libera, mi guarisce, ma mi aiuta a essere fecondo verso tutti. Buona domenica. Grazie.